Con Pink is the New Green, Torino Donna affronta il tema dell'educazione e la sostenibilità in una prospettiva di genere. Le donne sono mediamente più sensibili all'ecologia e al consumo responsabile, per questo riteniamo che rivolgersi a loro possa influenzare indirettamente stile di vita e consumo di intere famiglie. Oggi parleremo di ortofrutta e lo faremo con il presidente del gruppo T18, Edoardo Ramondo. In Italia, in termini di controllo qualità naturalezza dei prodotti, come si è evoluto il panorama anche sullo legislativo? Sicuramente tra una delle tre nazioni leader nell'attenzione verso il consumatore per la sanità e salubrità dei prodotti. In Italia negli ultimi dieci anni i principi attivi utilizzabili in campagna sono calati del 70%. I controlli avvengono nei vari punti della filiera, in produzione. Noi abbiamo i nostri piani di compienimento interni e devo dire che le istituzioni, quindi l'ASL, banalmente chiamandola, è attivamente sul campo pronta sempre a verificare soprattutto e specificamente i prodotti che in quel periodo stagionale manifestano più criticità. Ogni prodotto, attenzione, non immaginiamo la campagna come una zona che viene sempre irrorata di agrofarmaci. Oggi ci sono colture di precisione, ci sono produttori molto attenti, ci sono consumatori ancora più attenti. Parliamo del meccanismo di formazione dei prezzi, nel senso perché banalmente al supermercato, al mercato, a volte troviamo le arance e le zucchine che costano un euro e delle volte due euro e mezzo. Sì, a volte le vediamo addirittura sul giornale queste notizie, si scoppia lo scandalo dello zucchino soprattutto a 10 euro al chilo. In realtà la produzione agricola si discosta molto da quello che è la produzione industriale, perché mentre la produzione industriale è frutto di macchinari che si pianificano a livello produttivo e tutto e danno un X di prodotto, la campagna dà quello che è, in funzione della temperatura, dell'acqua disponibile, del clima dà la terra. Quindi se ci sono 10 gradi a terraccina dove noi produciamo zucchini e ne escono 100 kg invece che 1000, l'unico discernimento per poter comunque soddisfare tutta la domanda è il prezzo. Quindi meno quantità più prezzo. È una legge macroeconomica vecchia come il mondo, ma che vale anche per la frutta e la verdura. Ricordiamoci che a parte la componente produttiva nella vendita all'ingrosso, nel trading, rappresentiamo una vera e propria borsa merci. Io ho un amico caro che lavora in borsa e gli dice guarda tu in più di me hai solo una fortuna che i tuoi titoli non marciscono, però in realtà noi abbiamo lo stesso principio, l'allocazione completa della produzione vendibile di quel giorno, in funzione del quantitativo, della domanda, di ciò che arriva, della qualità, si forma un prezzo che è proprio quello che deve determinare la saturazione completa del prodotto venduto in funzione di ciò che è arrivato. Quindi noi sprechi per principio a livello professionale non ne dobbiamo avere mai. Consigli di spesa, cosa, come e dove comprare? Allora cosa? Beh frutta e verdura sicuramente il più possibile di stagione perché la stagione significa che si dice così proprio perché in quel momento la pianta è più capace di produrre quantità, qualità perché in quel momento climatico particolare la pianta fa quello. Essendoci anche tanta quantità il prezzo è anche conveniente quindi mangiate frutta di stagione. Ricordatevi di però fare un minimo di attenzione a quali sono le stagioni perché ad oggi essendo presente quasi qualsiasi prodotto quasi tutto l'anno se non ci si fa un po' di cultura agricola dove si sa che le pesche iniziano a maggio e finiscono a ottobre generalmente, le mele si raccolgono a settembre e via dicendo si rischia di non capire più niente quando si entra in un negozio o si va al mercato. Da consumatore dico che è sempre meglio poter comprare in una maniera per la quale si possa domani andare comunque a dare un feedback a chi ti ha venduto. Quindi e questo serve anche molto a noi, più noi riceviamo informazioni dai consumatori più siamo in grado domani di soddisfarli adeguatamente. Da quattro generazioni quindi praticamente un secolo insomma siete nel mondo dell'ortofrutta quindi non solo dal punto di vista distributivo. Come si è evoluto il consumatore all'interno del punto del mercato ortofrutticolo e magari in che modo le donne hanno avuto un impatto in tutto questo? E' cambiato moltissimo, io buona parte della storia della mia azienda l'ho solo sentita raccontare perché il mio bisnonno non ho avuto la forza di conoscerlo, mio nonno sì pur non avendolo mai visto lavorare, però mi rendo conto che c'è stato uno stravolgimento molto incredibile dai tempi in cui a portapalazzo si arrivava col carro, coi cavalli agli acquisti online B2B. La donna ecco, forse l'unica cosa che non è mai cambiato è il principale decision maker nell'acquisto che è la donna che prima era rappresentante d'acquisto per gruppi familiari di 5-10 persone, oggi spesso compra solo più per il fidanzato o per lei stessa, però è sempre lei che decide ricevendo le informazioni dei figli, dei compagni e quello che lei già di suo naturalmente utilizza come background per fare una scelta d'acquisto. Noi facciamo molta attenzione a quello che il genere femminile richiede, ci rendiamo conto che anche tramite i nostri siti o anche tramite il telefono chi fa domande è soprattutto femminile e facciamo molta attenzione a cosa ci dicono perché cerchiamo poi di riportarlo e soddisfare il consumatore il giorno dopo con la risoluzione delle domande o delle richieste che vengono fatte.